Buongiorno a tutti gli acrobatici, siamo riduci da questa depressione che ci ha permesso di vincere questo record delle 24 ore, siamo molto gasati e contenti, anche se adesso siamo in questa zona temporalesca, qui è pieno di nuvole, adesso sta un po' piovendo. Cambiano il vento, ci quasi è stata grado in continuazione, forse a cambiare tra spie e must-head in continuazione, forse a retta molto simile a popa DMG. Insomma, soprattutto la cosa più pronta è che sembra che Steph abbia un po' di fortuna cascare sotto i numeroni giusti, tant'è che Gianna ha perso i capelli. Oh dai! Teniamo duro!